Musica Bentrovati alla terza edizione del TG6, l'impresa che verrà. Questo il tema della tavola rotonda che si è tenuta questo pomeriggio nei padiglioni dell'ex COFA della Marina di Pescara. Presenti fra gli altri il presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia e il segretario nazionale della CGL Susanna Camusso. Paolo Renzetti Il Marina di Pescara ha ospitato l'ottava convention delle imprese di Confindustria Abruzzo dal titolo L'impresa che verrà. Tra gli ospiti d'onore il presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia, il segretario nazionale della CGL Susanna Camusso ed il vicepresidente vicario del Parlamento europeo Antonio Tajani a fare gli onori di casa, il presidente regionale di Confindustria Agostino Ballone. Nel corso della tavola rotonda sono intervenuti fra gli altri il costituzionalista Michele Ainis, il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, Luca Paolazzi direttore del centro studi di Confindustria e poi ancora Massimo Cavazza vicepresidente della piccola industria Confindustria per la cooperazione e l'integrazione e Gennaro Zecca presidente di Confindustria Chieti Pescara. Serve una politica economica che ponga una importanza rilevante e quale priorità alla questione industriale del paese. Siamo il secondo paese industriale d'Europa e su questo dobbiamo puntare. Timidamente stiamo scendo, c'è un'inversione di tendenza, dobbiamo ancora recuperare alcuni punti di PIL che abbiamo perso dal 2008 a oggi. La cosa positiva è che abbiamo un'inversione di tendenza. Chiaramente bisogna spingere affinché la crescita sia il grande fronte da affrontare sia come questione italiana che in particolare come questione europea. Qual è lo stato di salute invece delle imprese abruzzesi? Lo stato di salute è un po' specchio del paese. Le medie non sono più significative, abbiamo imprese che vanno molto bene, imprese che vanno mediamente bene, imprese che vanno molto male noi. Questa situazione rende difficile un'analisi chiaramente sulle medie. bisogna lavorare su dati analitici aiutando le imprese che sono molto avanti a correre ancora di più, aiutare quelle che sono nella fascia media a costruire un percorso dimensionale e culturale di apertura e l'abruzzo è un po' specchio del paese come l'Italia. Si continua in una politica che non è una politica di utilizzo delle risorse per la creazione di lavoro, continua a esserci un totale squilibrio tra quanto si è speso in decontribuzione senza avere degli effetti duraturi e stabili sull'occupazione e come quelle risorse invece avrebbero potuto essere utilizzate per creare effettivamente lavoro, cantieri, cambiamento del livello di investimenti del nostro paese. Continuo a pensare che noi abbiamo bisogno di uscite strutturali, non di tamponi della situazione e per questo le risorse che ci sono avrebbero utilizzate in investimenti. Ed ora il referendum, uno dei leader del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, sta girando l'Italia a bordo dei treni regionali per la campagna referendaria per il no alla riforma costituzionale. Ieri sera ha fatto tappa a Teramo con un comizio in Piazza Martiri della Libertà. Alfredo Primante. Movimento 5 Stelle in Piazza Teramo per dire no alla riforma costituzionale. In tanti ieri sera hanno sfidato il freddo per ascoltare il comizio di uno dei pezzi da 90 del Movimento Alessandro Di Battista. Sul palco, prima di Di Battista, si sono alternati i rappresentanti locali e regionali del Movimento, dal consigliere comunale Fabio Berardini ai consiglieri regionali Marcozzi, Mercante Ranieri, Smargiassi e Pettinari. Poi è stato il turno dei parlamentari 5 Stelle che hanno lasciato infine spazio ad Alessandro Di Battista da mesi impegnato nella campagna referendaria per il no. Noi stiamo in piazza in questo modo, giriamo l'Italia con i treni regionali, conosciamo il paese reale che non è quello delle conferenze di stampo, le slide renziane. Renzi ogni giorno descrive un paese dove per lui tutto va bene e poi non si sa perché i dati relativi all'economia, alla disoccupazione, alla povertà che cresce. Guardate che non ce la facciamo a tirare sul paese senza il reddito di cittadinanza e non passerà mai il reddito di cittadinanza che sconfiggerebbe anche il voto di scambio con questi parlamentari, con questi politici al governo. Per quello votare no è Renzi che l'ha personalizzata, noi non gli abbiamo detto di personalizzarla. Lui da arrogante qual è che ha detto? Qualora dovessero vincere i no io mi dimetterò. Ecco è un'occasione pure per questo, se dovessero vincere i no gli ricorderemo questa sua promessa ogni istante. E non si placa la polemica sugli scrutatori per il referendum del prossimo 4 dicembre. A Pescara per esempio fa ancora discutere il caso della figlia del vice sindaco Enzo Del Vecchio inserita nelle liste su impulso del padre. Il Movimento 5 Stelle questa mattina ha presentato una mozione da inserire nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale per cambiare la modalità di selezione degli scrutatori. Francesca Romana Tessi. Una mozione per rendere trasparenti e casuali i nomi degli scrutatori per il prossimo referendum costituzionale. Il Movimento 5 Stelle di Pescara, seguito delle notizie trapelate sulle nomine di scrutatori amici o parenti, lancia una proposta pubblica e denuncia favoritismi scorretti nei riguardi di chi invece si trova in situazioni lavorative precarie o peggio ancora senza lavoro. Emerge questo sistema in cui vengono fatte delle nomine addirittura della figlia del vice sindaco e che si mostrano come consiglieri comunali vadano a sconfessarsi l'un l'altro. Tutti sostengono infatti che questo sia un criterio che consente ai bisognosi di accedere a questa attività da scrutatori ma poi effettivamente c'è la figlia del vice sindaco. Tutti sostengono che ci sia stata correttezza nell'attività della Commissione elettorale ma poi c'è un altro consigliere che invece dice che non abbiamo potuto monitorare tutti gli elenchi e c'è qualche politico che ne abusa. Quindi noi chiediamo che venga messo in totale trasparenza quante persone ciascun consigliero o assessore ha nominato, quali sono, se vi sono rapporti di parentela fino al terzo grado o se sono stati nominati, quindi in qualche modo segnalati persone che appartengono al partito, quindi ex consiglieri, ex consiglieri di quartiere, insomma persone legate a quello. È necessario garantire questa trasparenza, noi chiediamo invece che venga fatto il sorteggio tra inoccupati, disoccupati o studenti sotto i 30 anni sprovvisti appunto di reddito perché vogliamo indipendenza, bisogna superare questa intermediazione dei consiglieri comunali perché non può essere istituzionalizzato un meccanismo clientelare che con questo strumento si rischia. Ed ora la cronaca, un grosso incendio si è sviluppato ieri sera all'interno dello stabile che ospita l'impianto di selezione dei rifiuti del Consorzio Sociale AM nella zona industriale di Pineto. Stanotte alle 22 circa, squadre del distaccamento di Roseto degli Abruzzi e dei comandi di Teramo e Pescara sono intervenute con sette automezzi operativi all'interno del capannone di circa 2000 metri quadrati di superficie. Il violento incendio ha interessato una vasta area di stoccaggio di plastica e carta sia sfusa che raccolta in balle all'interno del capannone che ha subito danni rilevanti agli impianti e alle strutture in particolare quelle di copertura che sono crollate per un'ampia superficie. Per estinguere l'incendio le autobotti dei vigili del fuoco hanno dovuto effettuare diversi rifornimenti di acqua presso il distaccamento dei vigili del fuoco di Roseto e la vicina ditta Ponzio Sud. L'incendio ha anche distrutto alcuni automezzi presenti all'interno dello stabilimento. Le operazioni di intervento sono tuttora in corso. Dopo quasi 20 ore di intervento le fiamme sono state completamente spente. Resta ora da completare lo smassamento del materiale incendiato per estinguere anche i piccoli focolai covanti. Bisognerà capire anche se c'è stato inquinamento dovuto alla combustione dei rifiuti cosa che sarà valutata nelle prossime ore. E' un frantoio che operava in precarie condizioni igienico-sanitarie ed uno completamente abusivo. Li hanno scoperti nel Chietino e nell'Aquilano i carabinieri del NAS di Pescara che nelle ultime settimane stanno controllando i frantoi d'Abruzzo. Chiuse le due strutture sequestrati 8.500 kg di olio d'oliva. In particolare nel Chietino un'azienda agricola con annesso frantoio sono stati trovati sporco, non rimosso da tempo, muffe e ragnatele. Veniva prodotto e stoccato olio in un deposito risultato abusivo peraltro non attuando il previsto sistema delle tracciabilità delle partite di olio prodotte. L'olio extravergine inoltre veniva stoccato in contenitori di un materiale plastico privo di indicazioni e dichiarazioni circa l'idoneità all'uso alimentare. Ne è scaturito il vincolo con divieto di movimentazione di 8.500 kg. Nell'azienda agricola, su provvedimento dell'ASL competente, è stata disposta la sospensione dell'attività di deposito. In un piccolo centro dell'Aquilano invece i militari del NAS hanno scoperto un frantoio oleario abusivo che operava in una struttura degli anni 40 senza requisiti igienico-sanitari, in ambienti peraltro sporchi e non idonei. Il tutto omettendo di attuare le procedure aziendali ai fini della tracciabilità delle partite di olio prodotte e senza rispettare le procedure di autocontrollo aziendale. L'attività su provvedimento dell'ASL è stata sospesa per la mancanza di registrazione e per le carenze igienico-sanitarie riscontrate. Cambiamo argomento ancora, parliamo di terremoto affollatissimo. L'incontro che si è svolto ieri sera a Teramo al Parco della Scienza, un confronto tra cittadinanza e scienziati, sismologi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che hanno spiegato al pubblico che cos'è il terremoto, gli ultimi risultati scientifici e le leggende a cui non credere. Intanto in città si allunga la lista di sgomberi e inagibilità nel centro storico e nelle frazioni. Vediamo. Quanto mai gradito è Teramani l'incontro divulgativo con due noti sismologi dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia che ha fatto registrare il pienone al Parco della Scienza. Gli scienziati hanno fatto il punto sui risultati scientifici degli ultimi terremoti che hanno colpito il centro Italia ed hanno spiegato perché non credere ad alcune leggende metropolitane. Non c'è proprio niente che possa far prevedere un terremoto? No, fino adesso no, non ci riusciamo, non siamo abbastanza bravi, è troppo complicato e quindi la risposta è no purtroppo. Le persone credono magari che quando faccia caldo ci sia vento sia un segno? Sì, lo so, però purtroppo non è vero, nel senso che qualche volta c'è una correlazione, qualche volta non c'è, ma soprattutto non c'è nessun modello fisico, non c'è nessuna legge che possa motivare queste cose. Sono appunto credenze e se posso aggiungere sono tutto sommato dei diversivi per non affrontare il problema principale, che è un altro e cioè le nostre case sono in grado di resistere al terremoto. Secondo lei è finita? No, sicuramente no, perché ogni giorno registriamo centinaia di aftershock ancora dopo il terremoto, soprattutto l'ultimo del 30 ottobre, quindi la sequenza è ancora attiva e anche oggi abbiamo avuto un terremoto di magnitudo quasi 4, andrà avanti ancora un bel po'. E al tempo stesso non possiamo escludere che, come è successo già da agosto a ottobre, quindi dopo due mesi, dopo tre mesi, dopo qualche settimana, non si attivi un'altra faglia. Per il momento non abbiamo, diciamo, indizi diretti di questo. E intanto, come ogni giorno, arriva il quotidiano bollettino di guerra diramato dal comune di Teramo, dopo le ultime verifiche fatte dalla Dicomac, che nei prossimi giorni ne dovrà effettuare ancora altre 2.500. Nell'ultimo bollettino noi ci avviciniamo alle 900 persone che non hanno più un'abitazione. Abbiamo 280 famiglie, da cui sono state notificate l'ordinanza appunto di sgombero. Questo bollettino purtroppo peggiora ogni sera, ogni sera abbiamo il report da parte dei vigili del fuoco. La storia ricorda che Teramo è stata già colpita e danneggiata da due terremoti, quello del 1384 e quello del 1703. Gli scienziati hanno quindi consigliato che è bene iniziare a convivere con l'idea di futurisisma, adeguando però le proprie abitazioni. E ci spostiamo a Francavilla. Il consigliere comunale Stefano Di Renzo, l'associazione Risorgi Sirena e Italia Nostra dicono no alla demolizione di Palazzo Sirena, ma chiedono che lo stabile venga ristrutturato per tornare ad essere il cuore della città. Ascoltiamo. Di Renzo, no alla demolizione di Palazzo Sirena, sì al recupero di questa storica struttura di Francavilla. Tra l'altro avete anche proposto un'istanza alla soprintendenza. Sì, finalmente dopo anni di lavoro siamo riusciti a raccogliere svariato materiale che attesta che Palazzo Sirena e i lavori siano riconducibili al 1946. Il valore storico del Palazzo è certificato non soltanto dal Comitato, ma dall'Italia Nostra, dall'Associazione Razzionalisti Italiani. Insomma, un patrimonio culturale e identitario non soltanto di Francavilla, ma anche a livello regionale e nazionale. Quindi deve essere assolutamente tutelato. Voi chiedete che Palazzo Sirena torni ad essere il simbolo di Francavilla? Sì, va ristrutturato. Basta con le bugie che vengono dette sui costi di ristrutturazione enormi. Non è così. C'è uno studio preliminare che abbiamo commissionato come Comitato. I soldi ci sono, potrebbero essere tranquillamente trovati nel bilancio comunale. È un'operazione che va fatta assolutamente. Anche Italia Nostra dice no alla demolizione di Palazzo Sirena. Perché? Riteniamo che il Palazzo Sirena rientra a pieno titolo dentro il patrimonio storico, artistico e culturale di Francavilla, ma ha un significato che va anche oltre la cittadina di Francavilla. È un po' il segno della ricostruzione di un luogo, di un sito. Forse insieme alla chiesa di Santa Maria Maggiore di Quaroni segna un po' la rinascita della città, della nostra costa dopo gli eventi del conflitto bellico. Il Comune di Pescara vara il nuovo programma di manutenzione delle alberature cittadine. È prevista la potatura di circa 800 alberi. Lo hanno presentato l'assessore al verde Laura Di Pietro e il presidente del Consiglio Comunale Antonio Blasioli. Il piano ha spiegato quest'ultimo incontra anche il favore degli ambientalisti che nei mesi scorsi avevano contestato l'abbattimento di numerosi alberi in città. Vediamo. Dopo cinque anni è copronto il programma di potature per il Comune di Pescara, messa in sicurezza e di aree più a rischio, e una base d'asta di 122 mila euro, circa 800 gli alberi interessati. Abbiamo approvato in giunta due giorni fa appunto questo progetto che prevede per un importo di 152 mila euro a base d'asta la potatura di circa 800 alberature a Pescara. Ovviamente ci concentreremo sulle vie dove questi alberi creano un'interferenza con le abitazioni piuttosto che con le attività commerciali, piuttosto che con la pubblica illuminazione. Questo infatti è un vero dramma per Pescara perché l'albero molte volte coprendo un palo della luce diventa anche un pericolo per l'incolumità pubblica. Quali saranno le vie interessate dal progetto esterno? Allora, ci saranno via Lebovio, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Italia, Piazza Duca d'Aosta, via Vittoria Colonna, via Parini e via Carducci, via Regina Elena, via Latina, via Vezzano, via Buozzi, via Luisa D'Annunzio e via Rigopiano. Dal 28 novembre invece saranno i tecnici del comune a portare avanti gli interventi di messa in sicurezza sulle vie di minori dimensioni, oltre a portare avanti la manutenzione ordinaria del verde pubblico. Dal 28 punteremo su via di sotto, che è una via molto pericolosa proprio perché lì sono successi diversi incidenti a causa, diciamo, delle alberature che coprono i pali della luce, per poi proseguire lungo via del santuario e poi spostarsi in via D'Amicis e via Aldomoro. Ed è stato presentato questa mattina alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo il libro La Costituzione e la Bellezza, il servizio di Tania Bonici Castelli. L'Italia è una repubblica fondata sulla bellezza, con un patrimonio artistico e culturale che non ha i uguali nel mondo. È questo un elemento unificante degli italiani e che si riflette nel testo della Costituzione promulgata nel 1948. Michele Ainis e Vittorio Sgarbi sono gli autori di un originale libro nel quale commentano la nostra Costituzione in 16 capitoli, uno per ciascuno dei 12 principi. Il libro è stato presentato alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo, facoltà della quale Ainis è stato preside. Che rapporto c'è tra la Costituzione e la bellezza? La Costituzione è bella, forse anche la bellezza è costituzionale, nel senso che è incostituzionale la bruttezza, cioè voglio dire essere prepotenti, rubare, corrompere non è una bella cosa, è una brutta cosa. In qualche modo l'estetica contiene in sé l'etica, non è soltanto un gioco di parole, con questo libretto che abbiamo scritto a quattro mani, l'idea era quella di intanto far conoscere di più questo testo che è il più importante che abbiamo, ma è anche il meno conosciuto, cioè la Costituzione italiana. Qual è la parte di Costituzione secondo lei più bella? La prima parte, quella a cui abbiamo dedicato questo commento letterario, anche perché la seconda parte è soggetto di una riforma, di un referendum per ragioni tecniche, non può essere, diciamo non può avere le stesse qualità espressive della prima parte. La Repubblica italiana è fondata sulla bellezza? Sì, è fondata anche sul lavoro, ma come dice giustamente Ainis, dicono Ainis e Sgarbi nel loro libro, è fondata anche sulla bellezza, ma non come fatto così superficiale, ma intimo. Proprio penso che la bellezza in tutte le sue espressioni sia parte integrante della cultura italiana. Noi come Università di Termo questa bellezza l'abbiamo colta, tant'è vero che abbiamo impresso alcuni articoli della Costituzione nei nostri corridoi. Ambiente unito all'alimentazione uguale prevenzione, è riassumibile in questa formula il senso del convegno organizzato dall'Istituto Senologico Abruzzese, l'ISA in programma il 25 novembre alle 16.30 all'ex aurum di Pescara, nel quale si parlerà di alimentazione, dei rischi per la salute e della necessità di abbracciare un regime nutrizionale sano fin dall'infanzia. Prevenire l'insorgenza di malattie cardiovascolari e tumori a tavola, l'importanza di materie prime non trattate, è testimoniata dai dati di crescita dell'insorgenza delle patologie. Gli specialisti lanciano un appello che sarà il tema centrale del convegno intitolato ambiente più alimentazione uguale prevenzione. Le patologie emergenti in questi ultimi 40 50 anni dipendono fondamentalmente dal nostro stile di vita. L'alimentazione è allo stato attuale il primo modo che noi abbiamo per difenderci e per cercare di far diminuire l'incidenza delle malattie attuali, quindi tumori, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche. Per quanto riguarda i tumori c'è costantemente un aumento delle incidenze. Quando ho cominciato a fare la senologia avevamo il 30% di incidenza e adesso siamo arrivati quasi al 200%. Il primo modo di difenderci è con lo stile di vita, prevalentemente l'alimentazione. Quello che non deve mancare quotidianamente sono le verdure, seguendo tantissimo la stagionalità che è fondamentale alla stagionalità, legumi, cereali tutti i giorni, sicuramente tutti i giorni, aumentare le porzioni settimanali di pesce, diminuire i grassi animali. La carne non è detta che non è detto che non si debba mangiare. Bisogna vedere come vengono alimentati, come vengono nutriti questi animali che poi noi mangiamo. Passiamo ora alla pagina sportiva. I biancazzurri proseguono la preparazione in vista dell'anticipo di sabato sera allo Juventus Stadium. Vicino al recupero Fornasier, anche Caprari sarà disponibile dopo l'influenza. Parola all'esperto Campagnaro. Ugo, quanto è servita questa sosta per preparare la gara con la Juventus? Molto, perché veniamo di una partita che è un po' complicata, che è andata male contro un diretto avversario. Abbiamo lavorato moltissimo queste due settimane. Sappiamo anche la trasferta che ci tocca adesso, che è molto complicata. Bisogna fare tutto il possibile per fare una buona gara e cercare di portare a casa qualcosa. Avete assorbito la brutta botta, se così la vogliamo chiamare, della sconfitta con l'Empoli? Sì, è assorbito, è stata dura, perché una partita così abbiamo giocato pure male, che in altre situazioni, magari anche perdendo, eravamo riusciti a fare un bel gioco. Questa volta siamo andati via senza niente e non si può prendere niente di buono di quella partita lì. Però abbiamo lavorato bene nella settimana, adesso abbiamo cambiato qualcosina, bisogna vedere se ci porti i risultati che vogliamo. Parlavi di questa gara con la Juventus, una gara che, inutile sottolinearlo, regala grandi stimoli a voi giocatori? Sì, giocare contro una grande squadra sono stimoli in più, però gli stimoli che abbiamo noi è il bisogno dei punti. Quelli lì sono motivazioni che noi abbiamo già da un po', non riusciamo a fare una vittoria e speriamo arriva il più presto possibile. Questo qua, secondo me, è la cosa che abbiamo più bisogno di tutto, perché può cambiare anche il morale della squadra e in questo momento sarebbe una buona cosa. La difesa soprattutto probabilmente sarà sotto pressione, di fronte non ci sarà Di Bala, forse ci sarà Higuain, sicuramente Mandzukic. Come si fa a fermare questi attaccanti così forti? Sì, non interessa chi gioca di loro perché sono tutti forti, magari qualcuno arriva da qualche viaggio lontano, Higuain dall'Argentina, qualcuno non sta tanto bene, però hanno dei ricambi che sono tutti quanti fenomeni, però anche noi andiamo lì a fare la nostra partita. Si dice che in queste partite qua non si ha niente da perdere, però noi vogliamo portare a casa qualcosa e faremo il massimo possibile per farlo. In Lega Pro sfida delicata per il Teramo, sempre sabato sera contro l'Ancona, per il Diavolo match da non fallire per risalire in classifica. In gruppo anche Carraro, mentre Jefferson sarà ancora indisponibile. Nofri cambierà modulo affidandosi al 4-3-3. Jacopo Forcella. Il Teramo torna al 4-3-3. Ormai è certo, anche ieri sera nella seduta di allenamento al Bonolis il tecnico Federico Nofri ha puntato sul tridente in vista della delicata partita di sabato sera contro l'Ancona. Nessun dubbio dunque, dopo il 4-4-2 e il 3-5-2, che evidentemente non hanno dato i risultati sperati, in casa Biancorossa ci si gioca l'ultima carta a livello di sistema di gioco. Vanno ora individuati gli interpreti. La linea difensiva sarà quella formata da Scipione e Dorazio sugli esterni, con Caidi e Speranza cerniera centrale. A centrocampo molto probabile che abbia un'altra possibilità Davide Peterman, con Bulevardi, certo del ruolo di Mezzala, meno di clamorose sorprese. Da valutare adesso chi giocherà davanti, anche perché Nofri da questa settimana ha a disposizione un'altra freccia nella faretra. Carraro infatti è tornato a lavorare con i compagni di squadra. Difficile dire a che percentuale di condizione sia, ma uno spezzone di gara e il trequartista Patavino potrebbe giocarlo. Davanti l'unico certo sembra essere Marco Sanzovini. Resta da capire in quale posizione giocherà, come boa centrale o come esterno, una soluzione a cui si affidò ad inizio campionato anche Lamberto Zauli. Test sul sintetico di Offagna invece per i dorici di Fabio Brini, che ha tenuto a riposo precauzionale Zampa e Samba, le prese con qualche acciacco. Diverse le soluzioni sperimentate dal tecnico dell'Ancona, che ha testato Gelunese e Battaglia al fianco di Agei, a centrocampo. In attacco Bariti prima è stato provato sulla fascia, poi nel ruolo di trequartista, dove è sempre stato impiegato in campionato. Ha variato più posizioni anche De Silvestro, utilizzato da rifinitore dietro a Momente e da esterno destro. Si è rivisto anche Voltan, recuperato dallo stiramento che lo ha tenuto fuori per due settimane. Dopo la distorsione alla Caviglia continua invece a lavorare a parte Bambozzi, che non sarà disponibile per la gara contro il Teramo. Lasciamo il calcio, ancora una sconfitta per la pallanuoto pescara femminile. Le ragazze di Cianfrone cadono 16 a 8 al cospetto dell'orizzonte Catania, allenata dalla grande ex Martina Miceli. Il servizio di Paolo Sinivaldi. Martina Miceli, oseremmo dire intanto bentornata a Pescara, perché comunque sono stati due anni, ma due anni comunque importanti della tua carriera prestigiosa. Sì, grazie. Com'è andata oggi poi la partita? Un ricordo anche di Pescara, se vogliamo. No, è sempre comunque un'emozione. Io poi da quei due anni non sono veramente più tornata a Pescara, perché non c'è più stata una squadra femminile in Serie A, per cui non c'è stato modo di tornare. È un'emozione, è bello, è bello pensare che magari qualcosa sta ricominciando, che dopo l'esperienza del 2003, se non ricordo male, poi c'è stato lunghi anni di vuoto, per cui un grosso in bocca all'uvo, perché mi fa piacere che la palla nuota a Pescara è una cosa molto importante e storica, per cui è un peccato che si perda tutto. Al di là che stiamo parlando di femminile, ma insomma femminile e maschile, la palla nuota ha dato tanto in una città come Pescara e penso sia giusto avere un progetto. Per cui insomma, in bocca al lupo alla dirigenza e alla squadra. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte.